Siamo in grado di fornire un servizio completo di pianificazione, elaborazione e acquisizione dei dati tenuti attraverso queste piattaforme di volo. Abbiamo una piattaforma CloudGIS sulla quale trasferire i dati al pilota in campo, che è in grado di acquisirli e poi per il cliente finale. Il nostro settore di riferimento coinvolge la vivutura di precisione, la geomatica, la geologia, il teleavivinamento, la vegetazione e tutti quei settori emergenti nei quali i droni possono essere altamente produttivi per le più interessanti applicazioni che ad oggi stanno iniziando a dare i loro frutti. Ci occupiamo anche di normative, l'ENAC che ha regolamentato recentemente questo settore e quindi forniamo consulenza per creare nuovi operatori sul territorio oppure per lavorare con noi, come il gruppo AERMA.